Le promesse in politica si fanno sempre, ora mi rendo conto che poter dire qualcosa a livello europeo non è facile, perché contare qualcosa è veramente difficile, poi si fanno le lobby, avete visto questo servizio che è stato fatto da Report qualche giorno fa, straordinario, le lobby del cibo, se ne stanno futtiendo l'espezione di come i maiali vengono trattati, di come vengono trattati i polli, l'importante è che la lobby riesca ad avere il suo guadagno e quindi dei cittadini dell'Europa, non gliene frega niente a nessuno, l'importante è che ci siano i soldi, addirittura qualcuno era andato a proporre una mutazione generica con un maiale con sei cosce e quindi avrebbe voluto fare sei prosciutti invece di quattro e gli hanno detto che era una buona idea, pensate questo, sulla Siracusa Gela dice è un impegno, questo impegno non è europeo, è regionale, vediamo se dopo le europee riusciranno a mantenere questo impegno. Invece dalle nostre parti si parla ancora di piano regolatore che ripeto è una cosa importante, vediamo l'intervista.